Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione in apertura a Padova, una giornata di lutto preventivo per non dover morire di tasse. Ha ricevuto molte adesioni l'iniziativa di Ascom Padova che oggi ha invitato i negozianti della città ad esporre fiocchi neri o cartelli nei propri negozi o ancora ad indossare qualche capo d'abbigliamento nero in segno di lutto. Contro questo sistema che sta minacciando la fiducia dei cittadini e sta mettendo in ginocchio le nostre imprese, soprattutto del terziario, ha ricordato il vicepresidente vicario dell'Ascom Commercio di Padova. Abbiamo scelto una forma di protesta civile ma decisa. Il 24 gennaio è stato poi ricordato, fino a ieri era una data tax free, cioè libera da tasse, ma ora è diventata l'incubo dei cittadini onesti alle prese con Tares e Mini-Imu, con calcoli difficili, a volte impossibili e perfino lunghissime code alle poste. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, condividendo le valutazioni del pubblico ministero, ha archiviato il procedimento a carico degli agenti di polizia e dell'ex capo settore dei servizi sociali di Padova che il 10 ottobre 2012 hanno operato per l'allontanamento del bambino di cittadella dalla casa della madre. Gli agenti di polizia e il dipendente comunale erano stati denunciati proprio dalla madre del bambino. Si tinge di nuovi particolari il delitto nel quale il 9 agosto scorso l'avvocato veronese Ciccolini ha ucciso l'ex fidanzata Lucia Bellucci. È emersa la presenza di un libro che l'uomo aveva scritto nei mesi precedenti al delitto. Sentite. Nuovi particolari agghiaccianti sono emersi nell'udienza preliminare svolta a Trento nei confronti dell'avvocato veronese Vittorio Ciccolini, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata. Ciccolini, mesi prima del delitto, avrebbe scritto un romanzo, una sorta di manoscritto di 100 pagine nel quale racconta di due uomini, un tennista innamorato di una donna, sentimentale, irrazionale e un avvocato, quello razionale dei due. 100 pagine che, oltre alle precedenti lettere ritrovate, avvalora ancora una volta la tesi della premeditazione. All'imputato viene contestata anche la minorata difesa e dei motivi abbietti. Minorata difesa perché la giovane donna, 31 anni, marchigiana, era stata portata dall'uomo, 45 anni, in una piccola strada isolata, da dove era difficile chiedere aiuto. Raffaele è sollecito, attenderà quasi sicuramente a casa, in Puglia, la sentenza dell'appello bis dell'omicidio di Meredith, prevista per giovedì a Firenze. Raffaele, ha detto all'Ansa il padre Francesco, non è in condizioni psicologiche di sostenere una lunga attesa come quella che si prevede. Il giovane è impegnato negli studi universitari in Veneto. Alla fine di marzo, ha spiegato suo padre, discuterà la tesi per la laurea specialistica in Ingegneria Informatica all'Università di Verona. Non c'è pace all'interno del centro in grosso Cina di Padova. In corso Stati Uniti questa mattina è stato necessario l'intervento delle volanti della Polizia per dare l'avvio esecutivo di 35 sfratti. I soggetti in questione non avrebbero saldato le competenze per tutto il 2013. Il sindaco e il vice sindaco di Monselice in provincia di Padova hanno presentato questa mattina una class action contro i comitati sindaci e le singole persone che in un modo o nell'altro si sono poste al progetto di revamping nella sede padovana della Italcementi. Dal prossimo mese saranno raccolti contributi volontari necessari a dare il via al procedimento legale. Saranno raccolte le adesioni, si prevede che saranno centinaia. Nel mirino della class action sarebbero finiti diversi sindaci della zona i componenti di un comitato di cittadini e tutte quelle persone che hanno firmato petizioni, presentato esposti o denunce contro il progetto di riqualificazione dello stabilimento. Basta con l'Italia in cui i comitati bloccano le opere, ha detto il sindaco. Non è possibile fare battaglie che si concludono con la perdita di 400 posti di lavoro e con la chiusura di aziende senza risponderne legalmente. Sexy ragazze e sexy raggiri è l'ultima frontiera delle truffe. Giovani, carine e avvenenti coinvolgono uomini nelle video chat in internet e poi li ricattano. Almeno 30 le denunce partite in Veneto, i casi potrebbero essere molti ma molti di più. La polizia postale per questo lancia un appello e dirama alcuni consigli, ma sentiamo nei dettagli la situazione. Truffe erotiche sul web e la polizia postale lancia l'allarme. Alcune decine le denunce partite dal Veneto e molte dal Padovano. Grazie a Facebook, avvenenti e sexy ragazze chiedono l'amicizia all'utente. Si fingono interessate, amiche e instaurano una certa intimità con l'uomo che sta dall'altra parte del PC. Quando lui è coinvolto al punto giusto, lo invitano in una video chat, dove non ci mettono molto a mostrarsi in atteggiamenti a luci rosse, invitandolo a fare altrettanto. Una situazione che ha travolto l'istinto di molti uomini, giovani e non, che però poi ne hanno subito le conseguenze. La video chat improvvisamente si spegne e compare la richiesta di denaro. In caso di diniego, il malcapitato di turno viene minacciato di essere diffuso in rete con le sue auto performance precedentemente registrate. La polizia postale avverte di non lasciarsi spaventare ma denunciare subito queste signorine. Consigliano di prendere nota di ogni account o indirizzo mail ed eventuali codici comunicati per i pagamenti. Se proprio siete tra quelli che non riescono a cedere alle tentazioni, invece, difendetevi, cercando di non divulgare dati personali, non far capire dove abitate o lavorate ed evitare foto che potrebbero far intuire dove vi trovate. Se la minaccia di pubblicare il video online prosegue, la polizia ricorda che una volta immessi in rete i video si possono anche togliere. Per ora le denunce sono una trentina, ma le persone raggirate potrebbero essere molte di più. Ci spostiamo in provincia di Treviso, dove il comune di Santa Lucia di Piave ha pagato l'IMU per tutti i suoi cittadini. Si tratta di poco più di 166 mila euro che il sindaco d'Intesa con la Giunta ha deciso di destinare a questo scopo in bilancio comunale, vista la disponibilità di cassa. Il primo cittadino è andato in banca personalmente a pagare l'F24 evitando di pesare sulle famiglie del suo territorio. Nei giorni scorsi aveva inviato una lettera nelle case spiegando le motivazioni del gesto per il sindaco. In Italia si è superato ogni limite di decenza e dunque questo ha reso necessario l'intervento dell'amministrazione municipale al fianco dei cittadini. Celebrazioni al Ghetto di Venezia per la Giornata della Memoria presenti anche le istituzioni del Veneto. Guardate. Venerti 24 gennaio la comunità ebraica si è riunita a Venezia per celebrare la Giornata della Memoria. Erano presenti anche molte figure istituzionali del territorio. Dopo la posa di una corona d'alloro e la recita del Caddish e del Salmo 79 da parte del Rabbino Capo la processione si è trasferita nella vicina sala Montefiore dove i rappresentanti regionali e il Presidente della Comunità Ebraica di Venezia hanno tenuto un breve discorso. Il Presidente della Regione Veneto, ricordando che nel 2016 ricorrono i 500 anni del Ghetto Veneziano, il più antico d'Europa, ha spiegato che la Regione si mette a disposizione per investire su questo e per dare il massimo decoro. Il Ghetto più vecchio d'Europa, 500 anni per noi è una grande opportunità per presentare la comunità ebraica, per parlare di identità veneta ma anche per presentarsi al mondo intero. Il mondo intero guarda questo evento e aspetta appunto le celebrazioni di 500 anni quindi la Regione ci sarà al fianco della comunità. Dal Veneto anche la volontà di sostenere iniziative varie per non dimenticare e per trasmettere anche a livello scolastico un lavoro culturale di educazione perché non si ripetano più certi orari. Nella rete, su internet, viaggiano, girano le teorie che sostengono ad esempio che i campi di concentramento non siano mai esistiti. Per questo noi siamo qui a celebrare la giornata da memoria. 27 gennaio si celebra in tutto il mondo di fatto la chiusura di Auschwitz. Soddisfazione dalla comunità ebraica, la presenza delle istituzioni qui oggi ha detto il presidente della comunità veneziana è per noi segno di attenzione nei confronti di una parte della comunità che si riconosce nella più ampia comunità della Regione Veneto la riaffermazione di essere parte di una più grande comunità. La riflessione odierna non serve per compiangere o solo per il ricordo ma intende dare un segnale di quelle virtù e ragioni per cui qualcosa di tragico è stato superato con qualità che ci servono per affrontare anche il presente e il futuro. Nel Rodigino un addestratore di caballi di nazionalità rumena è stato arrestato. L'uomo fermato per un normale controllo è stato scoperto essere destinatario di un mandato d'arresto europeo. Nel suo paese era rimasto coinvolto in una rissa ed era stato condannato a due anni e quattro mesi attualmente è in stato di arresto a Rovigo ma sarà presto estradato nel suo paese. Circolazione ferroviaria rallentata questa mattina dalle 6.50 alle 8.40 sulla linea ferroviaria Padova-Bassano per un guasto che ha interessato una serie di passaggi a livello tra le stazioni di Cittadella e Campo San Piero. sono intervenute le squadre tecniche di rete ferroviaria italiana che hanno provveduto alla riparazione del guasto. In attesa del ripristino degli apparati il traffico è proseguito secondo i protocolli previsti a garanzia della sicurezza ma con inevitabili ritardi. Sei treni regionali hanno registrato rallentamenti fino a 45 minuti. Un gruppo di ricercatori padovani ha realizzato uno studio che vede un ruolo importante, pensate, del mentolo nell'obesità. Sentiamo. Dimagrire attraverso il mentolo è il risultato di una ricerca realizzata da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova. I ricercatori hanno individuato i meccanismi molecolari la cui attivazione regola la trasformazione del tessuto adiposo bianco in tessuto adiposo con caratteristiche simili a quelle del tessuto bruno in grado di bruciare i grassi immagazzinati al suo interno producendo calore. La trasformazione avviene grazie ad una molecola che è appunto il mentolo. Sulla questione è intervenuto anche il dottor Marco Rossato della Clinica Medica Terza, coordinatore del gruppo di ricercatori e ha spiegato che il mentolo è utilizzato diffusamente nell'industria alimentare, cosmetica e anche farmaceutica. Sembra privo di effetti collaterali nell'uomo e rappresenta pertanto una possibile nuova strategia per la cura dell'obesità. E adesso spazio alla storia, quello consueto del venerdì in compagnia di Marisa Sottovia che oggi ci porta in Friuli, Venezia, Giulia e ci parla di Villa Manin. Il nostro viaggio alla scoperta delle ville oggi ci porta in Friuli esattamente in provincia di Udine alla scoperta di Villa Manin appunto che è stata la villa dell'ultimo doge Ludovico Manin. Perché in Friuli? Perché all'epoca la Serenissima ovviamente comprendeva anche i territori di questa zona. È una villa imponente, una villa maestosa voluta dalla famiglia Manin. Famiglia Manin che arrivò a Venezia dopo l'anno 1000 era una famiglia dedita alle attività commerciali e bancarie si afferma e ha degli interessi appunto in questa zona ritiene opportuno edificare una villa affida il progetto all'architetto Domenico Rossi. Nel 1500 esisteva già una residenza ma successivamente saranno appunto Ludovico e Francesco Manin che prendono in mano appunto il progetto di questa villa. La villa rispondeva a due esigenze di rappresentanza e di azienda agricola. Di rappresentanza perché per appunto gli ospiti che erano diretti a Venezia erano la prima sosta dopo le Alpi. Per azienda agricola appunto perché era dedita ad attività agricole come vedremo e quindi era molto importante anche questa attività appunto. Il complesso si compone di villa padronale da una foresteria, di una esedra con portici poi da due barchesse che terminano con due torri sul retto c'è un bellissimo parco che è la meraviglia diciamo per un paradiso per i botanici dove ci sono molte specie rare di piante ma soprattutto perché appunto ci sono piante di vari tipi dai tigli, dalle sequoie, dalle farne, dagli abeti e inoltre c'è un bellissimo prato, inoltre c'è una chiesa una chiesa che era frequentata non solo dai proprietari della villa ma era aperta anche a tutto il popolo. Il corpo centrale si sviluppa in tre piani suddivisi in due sezioni, una centrale e due sporgenti. Una rampa di scale ci porta appunto permette l'accesso alla villa. La villa si compone di 24 stanze, un grande salone le decorazioni molto belle, molto suggestive sono di pittori importanti quali l'Odivico Dorigny, Jacopo Amigoni, Francesco Fontebasso e il Torretti. E bello è anche lo scalone ornato appunto che porta al primo piano. Importante è ricordare poi al piano terra la sala di, la camera di Napoleone. Napoleone quindi soggiornò alcuni giorni quando appunto preparò il trattato chiamato poi di Campo Formido firmato il 17 ottobre 1797 che appunto prevedeva la cessazione appunto della Repubblica Serenissima e Friuli e Veneto passavano all'Austria. La chiesetta, la chiesetta dicevamo molto particolare anche questa ed sono dipinti di Giuseppe Torretti. In questa villa c'è stato successivamente l'allevamento dei bacchi da seta ed anche una filanda. È una villa fortunata fortunata perché è di proprietà della regione Friuli-Venezia-Giulia quindi è stato effettuato qualche anno fa un eccezionale recupero ed è sede di mostri importanti, di convegni, di manifestazioni. Ricordiamo gli avvenimenti più importanti la mostra di Kandischi, la mostra dedicata al Tiepolo e altri personaggi e altri artisti ed è una villa che consigliamo di visitare perché è un complesso straordinario. Parliamo di clima, una prima serie di perturbazioni più invernali ha raggiunto tutte le regioni italiane le temperature stanno calando tanto che la neve è scesa di quota venerdì a 400 metri sui monti del nord-est nel weekend farà più freddo per l'arrivo di correnti settentrionali domani però almeno sul nord-est dovrebbe esserci qualche spiraglio di sole. è tutto per questa edizione grazie per la vostra attenzione e compagnia vi auguro una buona serata.